Sono 19 i soggetti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare messa dal tribunale di Bari con l'accusa di detenzione spaccio di droga alle indagini dei carabinieri di Molfetta durante il periodo del lockdown nel 2020, documentate 7.000 cessioni di sostanze illecite a favore di 150 acquirenti, cocaina, marijuana, eroina, chiamata la nera nel gergo di spacciatori d'acquirenti. Le cessioni avvenivano nei pressi di zone frequentate, stazione ferroviaria, cimitero o villa comunale, tre luoghi utilizzati come base per lo spaccio, anche la sede di un'associazione benefica, dove molti degli indagati erano soliti trattenersi per pianificare i propri traffici illeciti.